Io sono Kelly Romanaldi, sono un illustracrice grafica e sono di Vicenza. Mi è piaciuto partecipare a Sprint perché è un evento che ci ha molto arricchito, anche affrontando temi un po' diversi, specialmente nei talk a cui abbiamo potuto assistere. Mi è piaciuto anche conoscere nuovi colleghi perché non è sempre facile conoscere altri illustratori, essendo anche un lavoro piuttosto in solitaria. Il mio rapporto con il cambiamento climatico è di cercare di migliorare le mie abitudini, informandomi attraverso magari canali scientifici e cercando anche di avere uno stile di vita un po' più sano, mangiare un po' meno carne, diciamo nell'ordinario. La mia opera ha uno stile prevalentemente concettuale, con dei colori complementari, quindi molto diversi tra di loro. Il tema dell'opera è, diciamo, la siccità e come questo ha, diciamo, fatto sparire il pianeta Terra. Però al centro di questo cratere, che è la pianeta Terra che ora non c'è più, si erge una piantina. In questa piantina non è nata da sola per caso, ma c'è una persona, in questo caso una donna, che l'annaffia. E questo è per simboleggiare un po' la speranza, appunto nello sperare che la Terra possa migliorare, ma possiamo farlo solo con il nostro contributo. La mia parola per il futuro è la speranza. La speranza, però, come è stata espressa nella mia opera, deve essere aiutata da noi, cioè solo noi possiamo cambiare il mondo in cui siamo, però c'è sempre la possibilità di farlo. Grazie.